Allora adesso facciamo un risotto, mantecato a sedano rapa e alle erbe poi oltretutto. Quindi noi cosa facciamo? L'abbiamo spento 3-4 minuti prima e andiamo a buttare della crema di sedano rapa. Mettiamo il parmigiano. Sì. Guarda, già che è così. È bello che è già, infatti. Si vede? Sì. E già come si dice all'onda. Aggiungiamo un po' di zenzero. Che hai messo nell'olio? Sì. Che abbiamo fatto un trito di prezzemolo, aneto e menta. Quindi vai di erbe, guarda che roba. Trac. Diventa anche bello colorato. Anche solo ancora un goccino. Sì, è bello ancora più morbido. Andiamo all'impiattamento. Cavolo com'è cremoso. Polvere di cappero. Eccolo. Ovviamente da capperi freschi, disidratati. Sì, disidratati. Giusto? Sì, disidratano fino a 5 ore. Wow, è anche un po'. Pensavo meno. Invece ne metti... No, no, no. Un po' se ne metti. Un goccio d'olio non ci sta male. E poi distribuite... Patatine di... Delle chips di topinambur che vengono fritte. Chips di topinambur. Sì. Prendete il topinambur, lo tagliate abbondante. Sono bellissime. Sì, divertente. Bello questo piatto. Nome? Risotto mantecato a senano rapa e zenzero con polvere di capperi e chips di topinambur. Topinambur. Bene. Topinambur. Buon appetito.